Cioè mette il caffè nel caffè, il sale nel sale e lui era convinto di aver preso la vodka e invece era parecchina. Sarevano morti tutti, lui no. Le otto non è andato neanche al pronto soccorso il medico Alberto Armellini disse, non lo fate dormire, non lo fate mettere la testa sul cuscino l'importante alle otto. Sì, signore, io devo farlo. Alberto Armellini dice, ma che sei matto? No, no, non gli fa prendere niente, anzi, se evitiamo la lavanda casta, che è meglio? Non sento più i loro, le faccio pure le parole. Apre il figlio di cui c'erano le denticchie. Io non posso prendere le denticchie. A mezzetta, io. Diciamo, ma che sei matto le denticchie? Come? Una alla volta. Grazie.